Ho iniziato a lavorare in piaggio nel 1974, direi per caso, perché io mi ero laureato a giugno, a luglio stavo dando una mano a un mio collega a fare la tesi, ero in biblioteca a Genova, arriva un mio amico e mi dice che ero stato assunto in piaggio, però nel frattempo è nato un posto di lavoro a Genova, lui era genovese, ha detto prova ad andare, vedi un po'. Sono andato direttamente lì in sede a Genova, dopo due giorni mi hanno fatto fare un colloquio finale, dopo tre sono entrato a lavorare in piaggio, ditta che non conoscevo, conoscevo di più Piaggio di Pontedera, che non la Piaggio Aeronautica, anche se avevo fatto la specializzazione aerotecnica. Per quanto riguarda l'ambiente trovato all'inizio, direi che è stato ottimo, perché oltre a essere capitato con un capo ufficio che era molto abile da un punto di vista tecnico, diciamo che è una persona che aveva aperta davanti tutte le strade dalla ricerca universitaria, però era appassionato di quel tipo di lavoro, ha scelto quello ed era anche molto disponibile ad insegnarti le cose. L'ambiente a livello sala disegno era ottimo, quindi diciamo che ho avuto un primo giorno un po' di titubanza, perché uno entra in un ambiente nuovo, non conosce nessuno, per darvi un'idea io sono arrivato là con il mio bel vestito blu, la camicia, la cravatta, poi mi sono reso conto che l'ufficio tecnico Piaggio era tutt'altro e già dal secondo giorno sono andato a vestito normale. C'è sempre stata una grande collaborazione con i capi che avevano tendenza di insegnare il proprio lavoro, non ho detto che sono andato a lavorare all'ufficio tecnico, e con disegnatori, anche con la parte operativa a livello operaio, perché noi diamo sempre per acquisito il discorso gli operai dell'officina Piaggio. L'operaio della Piaggio non è il tipico operaio che uno può trovare all'Ital Sidero, che uno può trovare in un'altra ditta, che esegue quello che c'è scritto sul foglio di lavoro, sono persone che hanno una certa conoscenza del lavoro e sono loro stessi che a volte chiamano l'ingegnere e dicono guarda che qui sarebbe meglio che facessimo in questo modo e giustificano il perché, quindi danno un notevole valore acquisito al prodotto. Comunque, tornando al discorso del lavoro, ho fatto sempre progettazione impianti, sono partito nel 74, quindi l'ho fatto dal 74 fino al 2000, passando come dicevano i colleghi prima, attraverso le crisi, passando il periodo in cui siamo stati tre mesi senza stipendio, manifestazioni, tutto. A un certo punto però si era creato, possiamo chiamarlo un affetto, un legame tale con la ditta, con le persone all'interno della ditta, per cui non si prendeva quasi neanche in considerazione la possibilità di cambiare lavoro. Si, si sono fatti in quel periodo anche dei colloqui fuori, perché bene o male uno aveva una famiglia da mantenere, però poi alla fine vedendo come già funzionavano allora le altre industrie aeronautiche, in cui ognuno vedeva il suo pezzettino, era molto segmentato a celle, molto formalizzato, mentre invece noi era tutto molto più semplice, se uno aveva bisogno di qualcosa partiva, andava in un altro ufficio, chiedeva la consulenza all'amico e andava avanti con il lavoro, non c'era tanta burocrazia. Alla fine pensandoci bene poi uno ritornava sempre lì, aveva delle offerte anche migliori, però poi si sono sempre rifiutati. Sono partito a fare questo lavoro che praticamente nel corso di aerotecnica non era quasi contemplato, perché si faceva un esame di idraulica, ma molto sui generis, legato più alla teoria che alla pratica, ho avuto la fortuna di avere un capo e dei collaboratori che mi hanno portato, mi hanno insegnato il lavoro che dovevo fare, poi man mano si è cresciuti all'interno della ditta, fido ad assumere la responsabilità della progettazione degli impianti. Dopodiché è cominciato questo cambiamento di cui parlavano prima, è cominciata ad essere inserita in ditta a seguito appunto dei cambiamenti di capitale sociale, personale che arrivava da altre ditte, con visione del lavoro diversa dal nostro, per cui si creava già un po' di slegamento all'interno come modo di ragionare. A un certo punto mi è stato proposto di andare a lavorare a Genova come program manager del P166 di P1, che era una rimotorizzazione del P166. Sono rimasto lì fin quando il progetto è stato finito, dopodiché sono ritornato a finale come responsabile di una parte di Airworthiness per la certificazione. Dico la verità, un lavoro molto formale che non mi è mai piaciuto, infatti nel giro di due anni sono riuscito a ritrovarmi in buco a Genova a livello manutenzione, ci sono rimasto purtroppo per pochi anni per motivi familiari, ho dovuto lasciare. Quello che ti lascia la piaggio è un senso di familiarità, un senso di rimpianto per quello che hai lasciato dentro e anche un po' di timore per quelle che ci sono adesso, perché vedi che l'ambiente è cambiato completamente. Quello che accennava l'ingegnere Garassino prima è totalmente vero, vedi anche proprio un po' di timore delle persone dentro che conosci da anni a parlarti apertamente del lavoro che stanno facendo, sembra che si sia passato da un periodo in cui tutti, dall'operaio al direttore generale, collaboravano per raggiungimento di uno scopo, non dico uno stato di polizia, però ha un certo controllo interno in cui si verifica quello che uno sta facendo, non deve sapere come va avanti il lavoro da un'altra parte e cose di questo tipo. Questa è un'impressione che si ha dall'esterno che può essere benissimo sbagliata, ho avuto questa opinione, però come l'ho detta può essere benissimo smentita. La vecchia Piaggio era una famiglia, perché realmente potevi parlare anche con lo stesso Piaggio, mi ricordo che eravamo una sera a Genova, erano le 9 di sera, si facevano delle prove su un impianto carburante, arriva Piaggio da Roma, si ferma lì e viene a chiedere cosa state facendo, come andate avanti, sono quelle piccolezze che non significano niente, che poi tradotte a livello di quanto avete già sentito, a livello monetario erano 0, perché lo stipendio Piaggio è sempre stato qualcosa di bassissimo, però davano soddisfazioni. A proposito dello stipendio, mi ricordo che quando mi hanno assunto mi hanno detto, lei deve capire, avrà avuto sicuramente delle offerte per uno stipendio più alto, ma qui c'è il mare, se si volte indietro vede, ci sono le montagne, dove trova un posto migliore rispetto a questo? E infatti avevamo cognato la dicitura trattenuta per agiata sede, era tipico, però ci stavano i volentieri.